Ciao, Nelly, sono Beth. Io e Enke andiamo in aeroporto. Ci si vede in Florida. Baci! È la vacanza della tua vita. Con la viaggia! Con gli amici. Io mi troverò un uomo con un grosso... ...opportunità. Vorrei essere una puttana. Tranquilla, piccola. Lo sei. La casa perfetta. Cinque studenti. Una casa. Un'orgia di ormoni. Diamo un'occhiata. Ti mantengo io se sarai carino con me! E un ragazzo amorevole. Piacente, non do confidenza ai facchini. Io mi licenzio. Maura. Quindi tu ti tieni questo e io ne prendo uno per la mia donna, ok? No! Il ragazzo è troppo possessivo. Sei un maniaco, eri lì a controllare che... La casa è troppo perfetta. Qualcuno ci sta spiando dalla finestra. Che c'è? Gli amici non sono così simpatici. Sai, è anche quei precedenti che ha. Se fosse in te, mi si stringerebbe il culo. Qui, 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 qui. Beh, te tuoi ex non l'hanno trovato morto nel dormitorio. Sì, sì. No, sei corretto. Perché? Perché io non ho paura di parlarci. E per te, Cristo, è ora di morire. E cosa mi dovresti rappresentare? Finora tutte le vittime erano del Tennyson College. Ma cos'è? Crede che sia uno di noi? L'assassino si trova in questa stanza. Che tornerà stanotte? Joseph Lawrence E là? Chad Allen Sono curioso. Dory Banton Chiunque sia, quello sta solo giocando con noi. E Jeff Conaway Qual è il segreto? Vuoi sapere un segreto? Avvicinati. Vuoi sapere un segreto?